Eccoci qua ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un po' la programmazione per l'estate 2023, tutte le attività che abbiamo creato per ragazzi e adulti da giugno a fine agosto. Però vedremo anche poi cosa succederà a settembre. Esattamente. Allora, introduciamo subito con il mese a venire, il mese di giugno, dove ci sarà la conclusione di alcuni corsi, corsi che sono partiti o a gennaio o a marzo, i level 1, i level 2, i level 3, i next level, corsi elite. Quindi termineremo quelli, termineremo i corsi continuity in settimana e qualche coaching che abbiamo in atto. Dopodiché partiranno dalla seconda settimana di giugno i camp 2023 TK di Irtenco. Quindi avremo tre settimane di camp nelle ultime tre settimane, nelle ultime, scusate, tre settimane di giugno. Vi lasciamo poi qua in descrizione il link al video che abbiamo fatto specifico sui camp, se volete saperne di più. Comunque sono per bambini ovviamente, e sono nelle ultime tre settimane. Bambini e ragazzi. Bambini e ragazzi fino ai 16 anni, quindi dai 7 ai 16 anni. Però abbiamo fatto un video dedicato proprio ai camp, lo trovate qua in descrizione. Quindi quello è giugno. Però, cosa positiva di giugno, per esempio ci sono i weekend liberi. Esattamente. Non abbiamo più i corsi di gruppo dal secondo weekend di giugno in poi. Quindi già negli ultimi due weekend di giugno, se qualcuno vuole fare delle coaching e non può venire in settimana e le vuole fare nel weekend, giugno è il momento adatto. E sarà così anche luglio. E anche luglio. Sì, aggiungerei che, oppure se siete un gruppetto di amici o comunque parenti, volete fare un percorso specializzato, personalizzato sulle vostre esigenze, contattateci che oltre a fare percorsi individuali possiamo creare dei percorsi adatti al vostro piccolo gruppo. Esatto. Lasciamo comunque anche per comodità il link alla nostra pagina che descrive i percorsi di coaching, dove comunque trovate tutte le info anche per fare appunto il group coaching. Quindi corsi di gruppo, ma personalizzati sulla base delle esigenze di quel gruppo specifico. Quindi non un corso dove diciamo noi è il mercoledì dalle 17 alle 18.30, ma un corso che vi andate a creare voi sulla base delle vostre esigenze. E cosa si potrà fare? Negli ultimi due weekend di giugno, in tutti i weekend di luglio, ma anche in settimana, perché se uno vuole fare un corso di gruppo su misura, quindi customizzato, con un gruppo di amici, lo può fare anche in settimana nel mese di luglio. Perché anche a luglio non abbiamo corso di gruppo. Rimane però attivo il riding libero, quindi nel weekend, sabato e domenica, per tutto il mese di giugno, per luglio e anche per agosto, e anche il giorno in settimana del giovedì. Però dal giugno ci sarà una piccola variazione. Dal primo proprio weekend di giugno, dal primo giugno, giovedì, primo giugno e giovedì 6 giugno. Sì, quindi i primi due giovedì del mese di giugno. I primi due, adesso mi sto forse confondendo, non è il 6, ma sono i primi due giovedì di giugno. Ci sarà solitamente il riding libero, che va dalle 15 fino variazione. Per il mese di giugno ampliamo il riding libero fino al 21. Quindi i primi due giovedì in settimana, quindi, di giugno, l'orario sarà dalle 15 alle 21. Stessa cosa per i weekend, che sarà dalle 15 alle 21. Mentre invece gli ultimi tre giovedì del mese di giugno, perché giugno avrà quasi cinque settimane, gli ultimi tre giovedì di giugno, noi abbiamo detto abbiamo i camp, però dalle 19 alle 21 ci sarà la possibilità del riding libero. Quindi chi vuole girare in settimana ha la possibilità di venire a girare nella fascia serale del TK10. Questa è una fase di test per il mese di giugno. Per il mese di luglio e per il mese di agosto seguiranno aggiornamenti per quanto riguarda l'orario. Se partiamo, continuiamo a partire dalle 15 fino alle 21, oppure apriamo più tardi e chiudiamo alla stessa ora, oppure ritorniamo agli orari classici. Esatto. Comunque per qualsiasi dubbio, tra qualche giorno vedrete aggiornato il calendario di prenotazione. Quindi sulla nostra pagina, quella che vedete sempre nelle nostre stories, prenota qui il riding libero, lì troverete gli orari aggiornati. Quindi sia del giovedì che del sabato e la domenica, potrete venire nelle fasce orarie che abbiamo appena detto. Per luglio poi seguiranno altri aggiornamenti, faremo dei post, faremo altri video per dirvi come sarà strutturato il riding libero in quel mese. Sicuramente sappiamo già che ci sarà sabato e domenica e giovedì. Dobbiamo vedere solo però gli orari. Gli orari, esatto. Questo vale anche quindi per luglio-agosto. A settembre ripartiremo poi effettivamente con i corsi di gruppo da sabato 9 settembre. Facciamo sempre corsi di gruppo per bambini, in questo caso. Non abbiamo per ora in programma un corso di gruppo per adulti. Bambini e ragazzi. Bambini e ragazzi, sempre sì, è vero. Io sbaglio questa parte, bambini e ragazzi. Però dicevo, corsi per adulti di gruppo, noi ne abbiamo ancora strutturati per settembre o agosto o luglio. Però appunto, come dicevo prima, c'è la possibilità di fare il group coaching. Quindi potete andare a crearvi voi un corso adulti su misura. Ecco, non lo abbiamo organizzato noi, però se siete un gruppetto di amici e volete fare il corso, a tutti gli effetti si può fare. Diciamo, se siete 3 o 5 ragazzi, ragazze, comunque non abbiamo nessun tipo di discriminazione, se siete un gruppetto di 3 o 5 persone, potete contattarci e valutiamo assieme qual è il momento migliore per andare a creare questo mini corso, che è una group coaching sostanzialmente, dove andremo a fare le lezioni personalizzate su il vostro riding. Esatto. Poi, come stavi dicendo prima, da settembre iniziano i corsi gruppo per i bimbi, quindi dal level 1 al level 2, il level 3 o next level, e anche lì, ovviamente, poi c'è anche il corso elite, che è una novità che abbiamo creato da marzo di quest'anno, quindi è un gruppo next level ancora più avanzato, e al momento è un gruppetto piccolo, però si infoltirà, perché man mano i next level della domenica passeranno man mano poi all'elite diventando più forti. Quindi quello è un nuovo corso, ormai è il corso quello più di punta, con i ragazzi, gli allievi più forti. E riparte tutto da settembre. Esatto. Quindi, per esempio, si può già prenotare un posto per settembre, eccetera, saluto. Si può già prenotare quindi per settembre, perché molti vogliono portarsi avanti, eccetera, eccetera, la risposta è sì, ovviamente. Potete contattarci, iniziamo a prendere le prenotazioni. Creeremo il solito gruppo WhatsApp. Il gruppo WhatsApp di riferimento del corso, e iniziamo a prendere le prenotazioni per tutti quelli che sono i livelli. Soprattutto se fate il next level, o l'elite, o siete già nel level 2 e volete continuare, vi consiglio di agire il prima possibile, in modo tale che creiamo i gruppi e siete già nel gruppo, non rischiate di rimanere fuori. Esatto. Quest'anno abbiamo avuto tanta richiesta e siamo andati un po' quasi al limite, insomma, superando lievemente il limite, quindi non proprio al limite. eravamo molto borderline, insomma, con i corsi. Da settembre dovremo stringere un pochettino di più la cerchia e quindi affrettatevi, perché i posti saranno limitati per far sì che le lezioni siano più fluide e più concentrate per i ragazzi e ragazze che praticheranno il corso. Ricordiamo che domenica invece 10, cioè lo diciamo, ricordiamo, non lo sapete, domenica... Ricordiamo a noi che lo stiamo facendo il video. Ricordiamo a noi che lo stiamo dicendo. Domenica 10 settembre invece dalle 9 e un quarto alle 10 e 45 ci sarà la possibilità di fare la famosa prova di lezione. Nel senso che cosa significa? Che diventando soci della nostra associazione, quindi facendo il tesseramento per partecipare al riding libero o comunque per usufruire nel nostro bike park, facendo solo quel tesseramento lì e portando il vostro certificato medico, una copia, una foto, come preferite, facendocelo sapere in anticipo, potete provare quindi a fare una lezione test. I vostri figli, portare le bici, caschetti, protezioni. Se non dovete avere bici, protezioni, offriamo noi. Di Capodir Tenko ha in servo una flotta di BMX e mountain bike che può dare... Ti piace dire flotta? Beh... Può dare in comodato d'uso gratuito per chi vuole fare la lezione prova, la lezione prova. Esatto. È come un open day, praticamente, perché molti lo conoscono queste giornate con il termine open day. Noi non lo chiamiamo open day perché vogliamo chiamarlo a lezione test, però a tutti gli effetti un giorno si può venire a provare il corso. Famosa cosa quando dite com'è che posso provare il corso prima di... Prova. Facciamo queste giornate specifiche dove comunque si fa il tesseramento perché senza di quello non si può varcare la soglia d'ingresso per questioni assicurative e una volta fatto il tesseramento si può fare la prova di lezione dove attenzione, non è che fai la prova e non ti spieghiamo niente, cioè te ne vai dalla lezione che ti sei già portato a casa, parecchio valore, sei già a stare sulla bici, sei già la postura, in parte la pompata, non si vede il salto solitamente perché il livello è troppo basso per iniziare già a vedere il salto, però per esempio con la lezione test che avevamo fatto con gli adulti erano arrivati degli adulti a fare questo test che erano già abbastanza avanzati e avevamo visto anche il salto e già nella lezione test erano andati a casa ultra soddisfatti. Esatto. Quindi entusiasti di iniziare il corso che ci sarebbe stato successivamente. Esatto. Una volta che provi il nostro metodo di insegnamento difficilmente torni indietro, anzi oserei dire che non torni più indietro. dovremmo fare la testimonianza infatti di alcuni allievi che dicevano no ma io ero scettico, non ci credevo, io pensavo che venivo lì, facevo il corso, mi dicevate due cavolatine, due frasi così e poi me ne tornavo a casa bocca asciutta. E invece, e invece, si sono ricreduti, ci hanno detto che mi sono ricreduto, invece l'ho fatto, ho provato e ho visto effettivamente la differenza tra girare per i fatti miei e girare tramite i vostri consigli, il vostro occhio tecnico che mi ha cambiato e rivoluzionato la vita. Il modo di riding, ok? Poi vi cambiamo anche la vita, ma... No, ma perché lì, come al solito, c'è sempre una cosa, come le persone, come sono abituate a promuovere le loro attività, le loro cose, eccetera eccetera. Solitamente si associa alla pubblicità, alla menzogna, cioè io per venderti un qualcosa devo dirti delle stupidate, cioè devo ingrandirti troppo la cosa, dirti, inventarti delle cose, eccetera eccetera. Però non è sempre così, cioè noi per esempio quando diciamo che abbiamo un metodo, cioè ce l'abbiamo veramente il metodo, so che molti fanno fatica a concepirlo perché dicono eh, due pirlette che girano in BMX, figurati, si sono messi lì a fare un metodo, a creare un metodo, a insegnare. E invece sì, cioè non è che se non lo concepite voi allora non possiamo averlo neanche noi. Noi ce l'abbiamo, lo usiamo e gli allievi che vengono qua sono ultra soddisfatti, se no non avremmo centinaia di allievi, non avremmo il park sempre pieno e così via. Poi dopo due anni che facciamo corsi, voglio dire, ci sarebbe della gente in giro che va a dire ah no, ti kappa, ti fregano, non ti insegnano bene. Però queste voci come mai non ci sono? Forse perché tutti quelli che vengono qua sono contenti, perché se non fossero contenti dopo che abbiamo 200 e passa allievi ci sarebbe 200 persone scontente che vanno a girare negli altri parchi e dicono ah non è andata a tk perché non si gira bene, non sono capaci. Invece non è così, questo anche fa un po' da prova che invece riusciamo. perché comunque chi viene qua si associa un po' a noi e riflette un po' a quello che siamo noi e quindi non vanno in giro a puntare il dito a fare ognuno fa il suo si divertono non c'è una una c'è competizione sana e non non sana e quindi cioè si sparla poco di tk perché non siamo qua a farlo e neanche chi viene qua da noi i nostri corsisti va in giro a sparlare degli altri che magari magari dicono ma tk è meglio di no non abbiamo non abbiamo bisogno non siamo delle persone così chi viene qua rispecchia anche un po' noi e infatti alla fine della fiera chi viene qua rispecchia sempre qualche nostra caratteristica che più che meno però c'è sempre lì perché attraiamo comunque persone simili a noi penso sia sia quello cioè ci sono pochi lamentoni qua che vengono se ne sentiamo più in altri posti che ci sono un po' di lamentele però ognuno al suo attrai quello che sei dopo che sei un criticone attrai criticone non ce n'è così beh qualche lamentina ce l'abbiamo però non sparmando degli altri no vabbè adesso devi dire a di dove ti riferisci eh no io mi riferisco a chi dice eh no però non riesco a fare quello perché è successo che ha piovuto troppo il giorno prima e non posso fare quello perché ho il cavo del freno lievemente spostato qualche io intendo dai lamentini in quel tempo piccole piccole va bene eh il programma ve l'abbiamo detto ripetiamo molto velocemente giugno fine corsi fine coaching inizio camp le ultime tre settimane di giugno ci sarà la possibilità di fare delle coaching individuali il weekend mattina sia il sabato che la domenica mattina eh gli orari del riding libero sono ampliati come test nel mese di giugno a parte i primi due giovedì che sarà dalle 15 alle 21 gli altri tre giovedì saranno il riding libero sarà dalle 19 alle 21 troverete comunque tutto sul nostro sito della pronotazione se avete dubbi esatto weekend 15-19 luglio manteniamo ancora per il momento un punto di domanda su sugli orari perché i giorni comunque sono giovedì sabato e domenica esatto i giorni sono quelli giovedì sabato e domenica fateci sapere nei commenti o scriveteci se avete necessità se volete partecipare cioè se volete venire in quanti siete così da iniziare a capire effettivamente se un orario di questo tipo può essere interessante anche per voi perché ovviamente se non dovessimo avere l'utenza non non ha senso tenere aperto fino alle 21 andiamo mangiare a casa anche perché ci piace quando apriamo il parque oltre a garantire le strutture garantire anche una session cioè che ci sia anche altra gente del movimento delle attività del divertimento sappiamo benissimo che girare da soli non è sempre così divertente anche girare in due a volte ci si annoia un pochino e quindi è anche per quello che facciamo tre aperture a settimana in modo tale che quelle tre aperture sono un po' più preziose e si ha la session cioè le persone vengono sono tutte gasate si gira tutti assieme e si cresce tutti assieme si aumenta anche il livello se aprissimo tutti i giorni sarebbe un po' più dispersivo ci sarebbe dei giorni dove c'è solo uno e poi aprire tutti i giorni non possiamo è impossibile perché abbiamo le coaching anche della manutenzione ma poi abbiamo le coaching è impossibile questo è un altro rischio abbiamo detto luglio sarà così agosto giovedì sabato domenica anche qua punto di domanda sugli orari quindi anche per agosto fateci sapere da settembre riparte tutto il programma scuola via mix freestyle e mountain bike freestyle quindi bambini e ragazzi bambini e ragazzi ricordiamolo che principalmente la nostra scuola si occupa di bambini e ragazzi per quanto riguarda i corsi di gruppo fissi che ci sono tutto l'anno questo è perché ovviamente prima di tutto pensiamo alle nuove generazioni che poi saranno il futuro poi ogni tanto non così nel senso spesso organizzando i corsi adulti di gruppo e tutto l'anno sono attive le coaching individuali o di gruppo che sono sì va bene anche per bambini ma soprattutto dedicate agli adulti ai ragazzi eccetera eccetera quindi comunque per ricordare perché sono poi ogni volta che diciamo la nostra scuola pensano che effettivamente anche i corsi adulti sono fissi quando vogliono possono prenotarli invece quelli escono ogni tanto registratevi alla nostra newsletter che comunque trovate sul nostro sito per essere sempre informati per esempio su quando esce un nuovo corso per adulti perché la priorità la diamo sempre alla newsletter tra l'altro esattamente bene solito mi piace condividete riguardatelo cinque volte così a me non ve lo ricordate se avete necessità di fare domande scrivete nei commenti contattaci contattateci scriveteci e vi daremo tutte le risposte necessarie la TK AirTanko è tutto e vi aspettiamo ciao ragazzi e ragazze buon riding grazie a tutti